Musica Manca poco Desmond, me lo sento. I venti di guerra cambiano. I lialisti arretrano di fronte all'avanzata dei patrini. E la loro morsa su questa terra si indebolisce ogni giorno. Ma i Templari diventano sempre più forti. Saranno anche pochi, ma la loro minaccia non accenna a calare. A peggiorare le cose, Washington ha deciso di risparmiare Charles Lee. Mi dicono che si sia rifugiato a Fort George. Così passo i miei giorni a cercare un modo per entrare là dentro. Di mio padre, nessuna traccia. Ed è meglio così. Una volta sistemato lì, ci sarà ancora la possibilità di riconciliarci. E forse di fare pace. Connor ha chiesto di te. Ciao, Connor. Oh, andiamo. La tua tristezza non mi aiuta più delle amare pozioni di quella sciocca donna. Raccontami che cosa stai combinando. Charles Lee è stato scoperto e finalmente allontanato dai patrioti. Ora marciano per prendere le altre città e rendere questo paese finalmente libero. Quindi tu hai vinto. La terra e il villaggio sono salvi. Ma sembri turbato. Washington ha risparmiato Lee. Finché lui è vivo, siamo in pericolo. E lo stesso vale per tuo padre. La prima volta che venisti da me, sapevi cosa ti aspettava. E hai giurato di farlo. Se non per la confraternita, per la tua gente. E per chiunque subisca la minaccia dei templari. Ma senza più lì, mio padre, forse... Ascoltami. Non sei arrivato fin qui per poi farti sconfiggere dal sentimentalismo. Tutti e due devono morire. Achille. Non c'è altro da dire. Non c'è altro da dire. Connor, ho fatto il prima possibile. Avete qualche buona notizia? Il Comte de Grasse ha detto sì. Dovete unirvi alla sua flotta alla Baia di Chesapeake e faranno come richiesto. Ma... Cosa avete in mente di fare? Meglio che ve lo mostri. Charles Lee ormai sarà in disgrazia. Ma ancora non siamo al sicuro. Ma il Comandante... Il Comandante sottovaluta la minaccia ed è inutile perdere tempo cercando il modo di convincerlo. Devo pensarci io. Cosa intendete dire? Uccidere Charles Lee. Si nasconde a Fort George, un posto circondato da molti militari. Impossibile entrare dalla porta. Quindi passerò da sotto. Incroyable. I tunnel che portano al forte sono stati bloccati. Mentre penso alle navi dell'ammiraglio, voi dovrete liberarli per me. E le navi? Al mio segnale. Bombarderanno il forte. Distruggendo le mura e creando un diversivo. Certo. Entrerò approfittando del caos. Troverò Charles Lee e la faremo finita. Ciao. Grazie. ino. Sapilo. Impressione. Ho. La. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E cosa volete che faccia? Tenete la baia mentre attacco la flotta. Se le navi inglesi osano avvicinarsi, affondatele. Dobbiamo proteggere Yorktown. Grazie a tutti. Il nome del cielo. C'è l'inferno su questo mare. Quante ne hai contate? Troppo. Se qualcuno può resistere, siamo noi. Spero solo che l'ammiraglio torni presto. Nemico in arrivo! Bene, ragazzi! Pronti al controllo! Parcivisti! Ulti ai posti! Linger si! Sì! 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 Grazie a tutti. 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 Ben tornare a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti.